Ho deciso di indire un giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un anno santo della misericordia. Lo vogliamo vivere alla luce della parola del Signore. Siate misericordiosi come il Padre. E questo specialmente per i confessori. Tanta misericordia. Quest'anno santo inizierà nella prossima solennità dell'Immacolata Concessione. E si concluderà il 20 novembre del 2016, domenica di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, e volto vivo nella misericordia del Padre. Affido l'organizzazione di questo giubileo al Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, perché possa animarlo come una nuova tappa del cammino della Chiesa nella sua missione di portare ad ogni persona il Vangelo della Misericordia. Grazie. 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 Grazie.